16 novembre 1975 viene beatificato il medico santo Giuseppe Moscati e noi oggi vi portiamo in luoghi che non avete mai visto a bel tempo si spera vi portiamo in Irpinia laddove la sua storia di famiglia è iniziata partendo da Benevento ed allora Santa Lucia in Serino c'è il nostro Enrico Selleri Enrico Fondo Luca Monti eccoci qua buongiorno davanti alla parrocchia di Santi Pietro e Paolo parrocchia di cui è parroco Luca Monti già citato e salutato da Lucia in studio siamo sui passi di San Giuseppe Moscati qui ha vissuto tante estati tanti momenti di riposo buongiorno Lucia buongiorno a tutti si siete i benvenuti a Santa Lucia di Serino questa chiesa racconta la memoria storica dei Moscati in questa comunità San Giuseppe Moscati vive una parte bella della sua vita che è legata a tanti ricordi e che oggi ripercorreremo insieme sui suoi passi bravissimo a tempi televisivi questo primo collegamento entriamo subito in chiesa tra pochissimo per vedere appunto i primi luoghi visitati da San Giuseppe Moscati a tra poco Don Luca e Don Luca e poi c'è Enrico Selleri e allora noi oggi vi portiamo ovviamente a casa di San Giuseppe Moscati e abbiamo scelto come compagno di viaggio uno dei due compagni di viaggio qui da studio padre Alessandro Piazzesi per anni rettore di Gesù Nuovo a Napoli e oggi direttore nazionale della rete mondiale di preghiera per il Papa padre Piazzesi sono felicissima di averla sa perché? Perché lei per anni è stato in questo tempio di San Giuseppe il Gesù Nuovo dove riposano tra l'altro le sue spoglie dove c'è questa stato ormai consumata dalle carezze della gente quando ha sentito parlarle per la prima volta del medico santo lei? tutto sommato poco prima di arrivare a Napoli lo immaginavo può sembrare strano ma è così arrivai a Napoli destinato dal padre provinciale e io conoscevo il nome e il cognome di questo santo praticamente non conoscevo niente di più e nel tempo con letture ma soprattutto con l'incontro di tanti devoti, pellegrini, beneficiati ho approfondito un po' la conoscenza e la grande come dire stima e devozione di questo uomo poi quest'uomo l'è entrato nel cuore tanto poi da dedicarci anche delle pubblicazioni che cos'è che di quest'uomo la impressiona nel momento in cui entra nella sua vita? beh intanto la grande umiltà la grande semplicità si direbbe il profilo basso nonostante il valore alto quando si trovano queste caratteristiche in persone come Moscati risaltano molto perché tanto valeva quanto invece poco si proponeva e si imponeva in fondo padre Alessandro erano tempi che dobbiamo precisare non erano come dire immuni dalla seduzione del successo del danaro un uomo di ottima famiglia cattedratico di successo poteva scegliersi una vita ben più comoda io dico anche quando parlavo ai gruppi per far capire dicevo era un tipo da premio Nobel e questo già dice tutto si devono a lui i primi studi sul diabete sull'utilizzo dell'insulina che lui faceva arrivare dall'America quindi c'era tutta la stoffa e tutta la potenzialità e la potenza della grandezza anche accademica ma lui progressivamente sempre più si tirò fuori da quel mondo e scelse e preferì il contatto con i malati da buon medico evidentemente e in particolare i più poveri e i più semplici la famiglia ovviamente impastata di fede anche di alta borghesia ripetiamo questo dio gliel'aveva fatto conoscere da piccolino ma se le dovessi chiedere che fede è quella di San Giuseppe Moscati è una fede profondamente incarnata è una fede convinta, profonda lui tutti i giorni partecipava all'eocarestia la mattina presto a Gesù Nuovo o a Santa Chiara o nelle chiese vicino e una cosa che mi colpì fu che lui dichiarava se io qualche volta per qualche motivo non posso partecipare alla Santa Messa lui non voleva di fatto curare i malati in quel giorno perché diceva io che cosa do a loro se non mi sono nutrito io della parola e del corpo di Cristo perché cosa gli arrivava da quell'eocarestia a un medico, a uno che deve toccare il malato cosa viene? beh intanto voglio dire il messaggio di Gesù e la scuola del Vangelo lui spesso partecipava alla messa celebrata all'altare di San Ciro da bambino anche faceva il chierichetto e imparò anche da quel modello di San Ciro, medico dei primi secoli in Egitto uno di quei medici che non si facevano pagare ebbe anche da San Ciro un'alta scuola di una professione vissuta più come missione che come altro padre Alessandro mi aiuta poi mi aiuti lei a ricordarlo dopo questa frequentazione di Santi di San Giuseppe Moscati me lo ricordi lei se me lo dovessi identificare ormai l'età ci sta tutta andiamocene però per un momento lasciamo il Gesù nuovo questa chiesa meravigliosa nel cuore di Roma di fronte a Santa Chiara dove c'è proprio la presenza viva di San Giuseppe Moscati per tornare lì in quell'incanto irpino Santa Lucia in Serino dove ci aspetta Enrico Selleri lì ci sono le istati del bambino e gli anni più belli della sua infanzia Enrico Selleri a te è così confermiamo questi giorni di accoglienza calda che abbiamo avuto qui a Santa Lucia di Serino abbiamo già potuto visitare i luoghi adesso ve li proponiamo siamo con degli amici Don Luca che avete già conosciuto Monica e Paola che tra poco ascolteremo Don Luca le estati di San Giuseppe Moscati i luoghi di riposo perché il papà arrivava proprio da queste zone Francesco Moscati il padre del medico santo nasce a Santa Lucia di Serino il 12 ottobre 1836 resta fortissimo il legame tra Francesco e il suo paese di origine e ogni estate conduce la famiglia a riposo in queste zone di tranquillità dove rinsalda i rapporti di amicizia i rapporti familiari tutti gli anni quindi i Moscati tornano qua e ci sono delle estati fanciullesche per Giuseppe dove si diletta a scrivere poesie nel giardino della sua abitazione dove prega dove si prepara gli studi e dove addirittura festeggia il suo diploma prendo le porte della sua casa a tutti i poveri della zona e ci sono anche poi delle estati di non riposo per Giuseppe Moscati diventato medico che pur venendo a Santa Lucia per trovare un po' di quiete a dire la verità trova lo scalone della sua abitazione sempre piena di tantissimi poveri e di tanti ammalati che bussavano alla porta del suo cuore restano però impresse fortemente le memorie della sua infanzia tanto che è diventato già grande verso la fine della sua vita scrive per Serino per Santa Lucia specialmente delle righe piene di nostalgia e di malinconia pensando al verde e dolce pendio che si vede dalla sua abitazione qui a Santa Lucia di Serino qui tutto parla di San Giuseppe Moscati entri nei negozi ci sono immagini di San Giuseppe Moscati una comunità che ha nel cuore questo medico santo in questa chiesa riposa proprio il papà Francesco di Giuseppe Moscati e ci sono due amiche del santo medico che hanno avuto a che fare proprio oltre che ovviamente come concittadine in qualche modo del papà di San Giuseppe Moscati ma proprio per una storia personale in cui il santo è entrato a piedi pari diciamo così Monica che cosa è successo? Bene premetto che San Giuseppe Moscati è sempre stato nella mia vita fin dall'infanzia però dal 19 gennaio del 2010 mi hanno diagnosticato una malattia l'infoma di Occi e da allora è iniziato il mio percorso il mio percorso è iniziato al Pascale di Napoli con le prime cure ed entrando la prima cosa che notai era la cappella di San Giuseppe Moscati e da allora ho capito che lui era ancora vicino a me c'è sempre stato molto forte e sono qui nel 2019 a raccontare tutto questo non commento passo solo oltre 30 secondi con Paola perché anche tu hai una storia sì io avevo una vita abbastanza tranquilla un'attività familiare all'improvviso mio padre è stato male ho avuto una brutta caduta un po' di trauma e subito dopo io ho scoperto di avere una brutta malattia intanto la mia attività si è chiusa quando sembrava che tutto fosse crollato non avevo più certizze nella vita in quel preciso momento ho avuto l'effetto la vicinanza e la forza da San Giuseppe a Moscati per continuare ad andare avanti a lottare mio padre sta non c'è male io continuo i miei controlli l'attività è ancora chiusa però intanto ho la forza e il coraggio di proseguire perché non so se non ci fosse stato il suo aiuto soprattutto per mio padre perché lui è stato davvero male se fosse stato tutto oggi fossimo ancora così Mediatore incredibile grazie Paolo Mediatore incredibile San Giuseppe Moscati continueremo a parlarne tra pochissimo ci spostiamo tra poco nel Palazzo Moscati guarda io sono contentissima Enrico di questo viaggio stamattina perché c'è un amore così profondo che parla ancora oggi attraverso queste storie e parla ancora oggi anche nel mondo della medicina come si fa a non ispirarsi a questo medico santo e io questo lo chiedo al dottor Pasquale Bellotti docente della Lulsa dottor Bellotti io la conosco per altri via perché lei è uno di quei volontari della Caritas di quei medici che la domenica come dire non stanco non pago della fatica di una settimana indossa il camice e il camice regala carezze perché voi regalate carezze alle persone che non ne hanno e volevo che la gente lo sapesse comissor Bellotti le posso dire una cosa quando muore qualcuno siamo tutti bravi a dire ma era immenso era qualcosa di incredibile nel caso di San Giuseppe Moscati i suoi contemporanei avevano capito da subito che quest'uomo come medico come professionista aveva un talento non comune lei ci ha portato una prova al riguardo sì abbiamo un libro dell'epoca di Moscati appena laureato in realtà il libro del 1905 pressoché introvabile una rarità infatti questo che stiamo per dire è veramente assai poco noto Pietro Capasso che è l'autore si firma si firma Opticus uno pseudonimo in questo libro un autore molto fecondo un medico collega di Moscati sarà poi anche deputato per due volte al Parlamento Italiano sopravvive di molti anni a Moscati muore nel 1951 ecco qui vediamo la pagina addirittura una pagina interessantissima di un libro che mette insieme 800 biografie di medici napoletani dell'epoca una scuola fiorentissima quella napoletana e quella campana e mette insieme anche 300 caricature splendide caricature perché con pochi tratti chi ha disegnato ha già tratteggiato le caratteristiche che non sono naturalmente soltanto esterne dei personaggi ce ne sono tantissime lo stesso Cardarelli è rappresentato che cosa racconta di Moscati io l'ho letto stamattina mi è venuta la pelle d'hoca mi racconta di un Moscati che dopo due anni dalla laurea quindi giovanissimo aveva già vinto un concorso era già noto presso tantissimi per il suo acume clinico e il Capasso lo descrive come dire un giovanissimo che è già così 25enne laureato da pochissimo il quale già si è fatto notare per questa sua caratteristica quella di leggere che è già in grado di stupire naturalmente e quest'uomo stupisce dal principio per la sua capacità per il suo talento e poi riuscirà a sconvolgere anche le coscienze state con noi perché il viaggio non si ferma qui ce ne andiamo un minuto in pubblicità il 16 novembre di 44 anni fa la beatificazione di Giuseppe Moscati e noi stiamo facendo un viaggio bellissimo in studio con padre Alessandro Piazzesi e con il professor Bellotti e a Santa Lucia di Serino con Enrico Selleri e Don Luca Monti Enrico torniamo a quello che è l'infanzia prenditi la linea ci siamo spostati dalla chiesa parrocchiale abbiamo fatto circa 300 metri a piedi e siamo saliti nel palazzo Moscati bellissimo siamo nelle camere abitate dalla famiglia del Santo un palazzo patrimonio di questa comunità che da poco è anche in qualche modo custodito al 100% dalla comunità parrocchiale sì proprio alla fine dello scorso settembre la parrocchia è riuscita ad acquistare una porzione di questo antico palazzo grazie a una generosità immensa da parte di tante persone grazie all'aiuto dell'associazione di San Giuseppe Moscati fra le pareti di questo palazzo cinquecentesco le generazioni dei Moscati si susseguono fino all'apparire della stella che è San Giuseppe Moscati in queste stanze nasce Francesco Moscati il padre del Santo e noi attraverso questo desiderio vorremmo affidare raccontare donare ai molti devoti del medico santo quella storia di infanzia che in qualche modo è la radice di tutta la sua santità stiamo già accogliendo tantissime persone che vengono a cercare qui la sua presenza questo è testimoniato anche dai molti foglietti che raccontano i tanti bisogni delle persone che cercano che salgono che vengono in lacrime che piangono e che trovano anche guarigione come è stato veramente in molti casi sono pareti benedette pareti benedette che testimoniano anche in questa ricostruzione con tutti ovviamente le suppellettili originali dell'epoca c'è anche una reliquia un quadro il Vangelo le letture che faceva anche il Santo quando veniva a passare il suo tempo con la famiglia qui tanti luoghi ci sono qui a Santa Lucia di Serino passando a piedi abbiamo anche intravisto il Convento delle Clarisse un altro luogo caro alla famiglia Moscati assolutamente quello è un luogo significativo perché la famiglia del Medico Santo quando veniva qui a Santa Lucia di Serino tutte le mattine andava alla messa nella chiesa delle Clarisse e non soltanto Francesco sua moglie Rosa insieme ai piccoli si soffermavano lungamente a colloquio con le monache e ci sono anche dei semplici aneddoti che si raccontano che avvenivano davanti alla grata del monastero ad esempio sembra che proprio davanti alla grata delle Clarisse e avendo ricevuto i complimenti per le virtù l'educazione tutte queste squisitezze dei loro figli Francesco Moscati abbia risposto i miei figli sono tutti buoni nessuno però è come Peppino e quindi in qualche modo è stata un'investitura da parte del padre per chiudere una battuta la comunità è in festa c'è stata una novena molto partecipata non solo con la comunità di Santa Lucia di Serino ma con tutto il comprensorio domani la festa che programma avete? noi abbiamo iniziato invitando l'arcivescovo di Benevento che è la città natale di San Giuseppe Moscati appunto come hai detto abbiamo accolto diverse comunità parrocchiali abbiamo pregato è stata un'esperienza di incessante preghiera e di intercessione domani il nostro vescovo il vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aiello concluderà la celebrazione ci sarà la visita del Presidente della provincia c'è qualcosa che inizia a smuoversi e noi siamo contenti di aver offerto a tantissime persone l'opportunità di riportarle qua fra queste mura dove la memoria storica in qualche modo sembra ribollire ripartire c'è un grande disegno dello Spirito di Dio Don Luca Monti parroco di Santa Lucia di Serino grazie magari torneremo all'apertura ufficiale del museo qui di Palazzo Moscati prima di tutto a voi la linea bravo Enrico lo faremo un impegno in tv di Emila Don Luca e Serafico ma non immaginate la fatica che c'è dietro tutto questo la forza di una comunità straordinaria che alla fine ha combattuto ed è riuscita a non far perdere questo patrimonio culturale di fede straordinario padre Piazzesi c'è un momento specifico nella vita di questo santo in cui lui capisce che la sua missione è quella di stare tra gli appestati del colera tra gli uomini e le donne che cercano di scappare da un Vesuvio incandescente si può dire oppure insomma questo era predestinato alla bellezza e al bene credo che ci sia chiaramente un momento che fu la malattia la convalescenza e poi la morte del fratello il fratello Alberto che era entrato nell'esercito in cavalleria cadendo da cavallo si procurò un trauma cranico e crisi epilettiche e poi alla fine morì Peppino come lo chiamavano in famiglia come gli altri fratelli lo acudiva lo assisteva e però anche si sentiva impotente di non poter fare di più lì nacque la sua vocazione la sua chiamata ad essere medico e lo diventò e lo fu sempre più e sempre meglio non soltanto del corpo ma della mente se possiamo dire e soprattutto dell'anima e questo ha reso il suo servizio la sua missione non voglio dire unica unici ma certamente molto particolare professor Bellotti lui aveva capito da principio che le medicine una buona diagnosi per carità da sola non ce la facevano vero? per curare una persona è certo non curava quasi mai con i farmaci d'altra parte non ce n'erano tantissimi Moscati faceva sostanzialmente due cose intanto intuiva e l'intuito di Moscati è proverbiale ancora oggi con i mezzi a disposizione non si potrebbero fare le diagnosi che Moscati ha fatto e che sono state poi confermate sempre e quindi questo ha un po' del miracoloso grande intuito grande capacità di cogliere nel rapporto con l'altro la malattia più di una volta gli portavano ammalati o si recavano da lui ammalati con una diagnosi Moscati soltanto guardando poi diceva no il tuo problema è nel polmone di destra lì in basso vi rendete conti? e l'altra? l'altra cosa? l'altra caratteristica è quella di fare delle ricette particolari in cui c'è poco di farmaco e molto di avvio ad una vita diversa lei ha bisogno di confessarsi di più lei ha bisogno di fare la comunione la sua guarigione sarà in lei deve seguire la sua strada lei ha un pensiero che la vorrebbe portare a fare una vita oggi un medico se lo facesse verrebbe radiato probabilmente dall'ordine lo dico con grande dolore e grande sofferenza assolutamente sì ci si rende conto di quanto poi la presa in carico del paziente passi per tutte queste cose e non semplicemente per una per una buona indagine la sua è totale di presa in carico perché spesso molto spesso il paziente non pagava nulla nessun onorario Moscati guardava e si regolava e quindi diceva guardava e si regolava tu paghi e tu no il professor Bellotti che è innamorato di San Giuseppe Moscati qualche anno fa grazie alla possibilità di accedere agli archivi grazie anche a una chiave che padre Piazzesi gli dà trova una lettera una lettera particolare che fa risalire ad una paziente straordinaria quello che state per vedere per gentile concessione devo dire del professor Bellotti e di padre Piazzesi è un documento straordinario l'ultima paziente che visita Giuseppe Moscati è stata sentita è finita qualche anno fa pochissimo tempo fa a 101 anni questo è un documento unico nel suo genere guardate certo che qui aver conosciuto Moscati è una cosa eccezionale guardate sono andata a farmi una visita medica sì perché di tanto in tanto mi facevo guardare perché era il mio medico curante insomma era il nostro medico curante anzi siccome ero molto gracile molto magra piuttosto si era fissata che ero palata che ti aveva dato un bel colosso e lui dice signora guarda sua figlia di tutto può morire tra le che di questi e poi quando abbiamo giuso la porta e siamo cominciato cominciato a scendere le scale all'anno a cameriere a giochiera non mi ricordo più ha aperto la porta e mi dice il professore è morto delle volte diceva mia madre professore sbrigiamoci perché si metteva a chiacchierare non ci preoccupi signora non ne uscirà nessuno senza essere visto era severa ma una severità dolce un momento straordinario commuovente commuovente Elena De Marsico è scomparsa a 101 anni forse ve l'ho già detto un minuto fa per dirvi che il medico santo le aveva detto che avrebbe avuto una vita lunga e come buona profezia portata fino all'ultimo io ho un'ultima domanda identica per tutti e due io chiedo a un uomo di medicina come lei professor Bellotti cosa chiede quell'amore di San Giovanni Moscati cosa ha portato nella sua vita devi capire che gli studi di medicina sono un aspetto piccolo della relazione con l'altro e prendere in cura è qualcosa di diverso si fa prendendo veramente avvolgendo tutta la vita dell'altro lo sa che lo vorremmo tutti quando andiamo a fare una visita lo sa professore fanno i piazzesi ad un uomo di Dio che tra l'altro guida questa rete mondiale di preghiera in Italia del Papa è un'eredità che lei ha raccolto per anni quando è stata a Napoli ma che penso si sia portato appresso si porti ancora dentro qual è il modo più degno per ricordare questa figura per vivere San Giuseppe Moscati certamente raccontare quello che lui ha vissuto ha testimoniato è molto importante perché dà modo a tanti di conoscerlo e questo naturalmente non basta cogliere carpire il suo segreto la sua fedeltà a Cristo ecco questo ci aiuta a rendere più bella la nostra vita far nostro qualcosa di suo perché lui ha fatto di Cristo molto per la sua vita ci avete fatto veramente togliere la bellezza la freschezza della santità di quest'uomo vi prego c'è il Gesù nuovo a Napoli c'è Benevento la casa natale c'è questa comunità di Santa Lucia di Serino che vi aspetta se avete il cuore e il corpo anche pieno d'affanni andateci perché è un medico che fa delle cose straordinarie ancora oggi grazie a padre paziazzesi grazie a professor Bellotti grazie di cuore